I NASS hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di operatori e assistenti sociosanitari dipendenti del centro Eugenio Litta, un centro di riabilitazione neuropsichiatrico di Grottaferrata. Ritenuti responsabili, dei reati di maltrattamento aggravato e sequestro di persona. C'è un percorso che è stato sollecitato dalle due società, in particolare Modo dalla Roma, ed è stato siglato una sorta di accordo per trovare un percorso che concili gli interessi di tutti. La divisione delle curve, non è un'idea di Gabrielli, è un'indicazione del Ministero dell'Interno e di una specifica task force dell'aprile 2014. Lo ha detto il prefetto di Roma, Franco Gabrielli. In queste ore sta andando online il nuovo sito della regione. Il Lazio che non avete mai visto, che per la prima volta mostra 30 luoghi meravigliosi del nostro territorio ripresi con i droni. Riproponendo a milioni di turisti italiani e stranieri bellezze inesplorate, che per pigrizia erano state abbandonate e dimenticate. Lo ha annunciato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.